Posso richiamarti? Sono all'aeroporto. Mi serve la tua opinione su un paziente. Dove hai trovato questo David Burbank? È stato il dottor Foster a mandarlo da me. Da quanto tempo hai ricoverato qui? Dallo scorso weekend. È il tuo solito tentativo di farmi credere nel paranormale? Sì, però questo... Questa è tutta un'altra storia. Pronto? C'è Adam lì. Mi dispiace, dottor Harding. Ci sono solo io. Vorrei che tu lo cercassi. Che cosa è stato? Sono Adam. Adam ha cominciato a portare con sé un'immagine mentale di David. Perché Adam creerebbe una seconda identità? Il vero David Burbank è stato ucciso. Lo hanno trascinato nel bosco. È stato seviziato. Torturato. Non c'è motivo per cui dovresti riconoscere questo posto. Che succede? Una notte ero qui. Sta arrivando. Chi sta arrivando? Il diavolo. Voglio farti vedere una cosa. Vattene via! Non ci resta molto tempo. C'è un uomo, ma il faccio, che sta per arrivare! È qui. Ciao! 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 Grazie a tutti